Ti diamo il benvenuto su GoStudent Learning. Vuoi ripassare una materia o imparare qualcosa di nuovo? Sei nel posto giusto! Qui trovi test, esercitazioni e materiali per i compiti. Accedi a GoStudent Learning dalla dashboard GoStudent. Da qui, fai clic sulla scheda Corsi. Su GoStudent Learning trovi tutte le materie del programma scolastico e puoi filtrare i corsi disponibili per fascia d'età e materia. Aggiungi al tuo profilo i corsi che ti interessano in questo modo e accedi ai corsi selezionati da qui. Ora puoi iniziare a studiare. In ogni corso troverai domande specifiche per il tuo programma di studio e per la materia scelta. Il tuo programma di studio è personalizzato. GoStudent Learning ti ripropone tutte le domande che sbagli per aiutarti a rafforzare le nozioni apprese. Hai bisogno di un aiuto in più? Chiede ad Amelia! Il nostro chatbot è dedicato allo studio. Sa tutto sui tuoi corsi ed è sempre disponibile. Torna alla schermata Home in qualsiasi momento per controllare i progressi fatti. E mentre ti avvicini agli obiettivi prefissati, tieni d'occhio ai grafici PE per vedere quanto stai migliorando. Ottieni voti più alti divertendoti con GoStudent Learning.